Allora io sono seduto in eccesso perché davvero non so cosa dire, è passata praticamente un'ora dalla fine della partita e non so che dire perché non mi ricordo nemmeno che cosa è successo nella partita talmente sono incazzato come una bestia perché un risultato come questo qui è davvero, non si può tollerare, ero in live fino a qualche minuto fa ma non volevo continuare, non volevo continuare però adesso sono in bagno, sono nel cesso, sono incazzato, mi fa cagare, mi fa cagare il pensiero, mi fa cagare l'ho detto prima, mi fa cagare il pensiero che siamo rappresentati da una persona come Agnelli una persona che con la Juve non c'entra, non c'entra, non c'entra un cazzo, una persona che davvero, che davvero, davvero dobbiamo mandare via il prima possibile perché tu dopo tutto quello che sta succedendo e non voglio mettere alibi e cazzo e mazzi però dopo la partita contro la Lazio il rigore che non ti hanno dato dopo la partita di stasera, dopo la partita di andata contro il Porto il rigore che non ti hanno dato perché l'arbitro ti viene a dire che la partita era quasi finita e lui non se la sentiva di dare un calcio di rigore o di andarsela a rivedere al VAR io penso che tu come presidente, come avrebbe fatto De Laurentiis, come avrebbe fatto Gingiunzunzunzunzun come cazzo si chiama quello dell'Inter che cambia ogni 5 minuti saresti sceso in conferenza stampa a dire oh spiegatemi un attimino come funziona la situazione perché io non ho le idee chiare invece te ne sei sbattuto le palle caro Agnelli e questa qua è la risposta che non veniamo calcolati per niente che noi questa sera siamo usciti per due episodi, anzi per due scelte arbitrali e mi fai incazzare come una bestia perché i ragazzi ci hanno messo l'anima e cuore per quanto potevano ci hanno messo l'anima e cuore, l'unica persona che non ci rappresenta qui sei tu io ti prego con tutto il cuore, ora sono seduto nel cesso perché tu non ci crederai ma sto soffrendo come un cane, guarda qui, vedi, sono seduto nel cesso, credimi amico mio ok, questo è l'unico posto, questo qua, il gabinetto, caro amico mio Agnelli, Andrea Agnelli è l'unico posto, l'unico posto che ti rappresenta tu questi colori qua, vedi noi spendiamo dei soldi per comprare queste cose qua tu questi colori qua non ti appartengono tu sei un businessman, tu devi andare alla Ferrari tu devi andare a fanculo tu con la Juve non c'entri niente quindi un applauso alle ragazze che ci hanno messo il cuore e vaffanculo Agnelli che non ci rappresenti per un cazzo ti sei preso pure del mafioso e non sei riuscito a fare una cazzo di cuore quindi io di quello che è successo sta partita non mi ricordo niente per quanto ho sofferto non mi ricordo niente l'unica cosa che voglio dire è mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per come soffriamo noi tifosi ma so che a Agnelli non gli frega niente di quello che è successo non si può, non si può andare fuori così e non perché si chiama Porto non perché potevamo andare fuori anche contro il Benevento anziché il Porto se la situazione è questa hai capito? se gli episodi sono questi se quello che conti tu è questo e l'abbiamo visto all'andata contro il Porto l'abbiamo visto contro la Lazio qualche giorno fa tre giorni fa per andare lontano un rigore di mano che avrebbero dato in qualsiasi pianeta e a noi non ce l'hanno dato e il VAR guardava Simpson o guardava Sanremo che c'era Ibrahimović giustamente deve essere guardato deve fare share a noi serve qualcuno che ci rappresenta hai capito Agnelli? quindi e dire ragazzi io non faccio intro in questo video non faccio niente perché purtroppo l'unica parola da dire è delusione, delusione delusione contro il Porto non me l'aspettavo ma con quello che è successo potevi fare la partita più perfetta perché tre gol l'abbiamo fatto più di così non potevi fare niente ragazzi io vi saluto e soffriamo assieme vaffanculo Agnelli un abbraccio da Peter Pan fino alla fine forza Juve ciao 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 ciao